A pochi giorni dalle amministrative i candidati sindaci della Pedemontana sono chiamati a confronto dal tavolo di coordinamento delle categorie economiche del Bassanese. Gli aspiranti sindaci esporranno i punti salienti per il mondo imprenditoriale di rispettivi programmi. Il tour, che si concluderà giovedì 23, passerà da Mussolente, Tezze, Pove, Nove, Cassola, Bassano e Cartigliano.